buona ragazzi siamo quasi alla fine del video e oggi è la giornata del viaggio quindi dobbiamo ritornare a casa nel video non verrà terminato per oggi allora ho inserito tutte le cose del ballo adesso vi faccio vedere partite da qui sicuramente voi la musica non l'ha sentita perché attunente alla camera perché non si faccio vedere voi vi dicono anche che lo portano nella caserna di Binserci a Roma e aspettano che fuori ci sia la giusta platea di telecamere e di fotografici i carabinieri avrebbero tutto il diritto di festeggiare la loro camionetta non ci riesce perché saranno troppe cose accese dobbiamo spegnere Firefox vabbè me lo faccio vedere un'altra volta non è più tardi non è più tardi piattina le Grazie a tutti.